Musica Più di 900 interventi per l'issoccorso dalla base di Caiola, il direttore uscente Marconi traccia un primo bilancio degli otto mesi d'attività H24 e passa il testimone al nuovo responsabile Mario Teruzzi. Dal 2019 ad oggi drastico calo dei camici bianchi nei quattro ospedali della provincia, dimezzati cardiologi e urologi, la dirigenza medica e sanitaria si è ridotta di 127 unità, meno 28%. 16 scout del milanese sono stati recuperati ieri sera nei boschi sopra Pesce Gallo, travolti da grandi in evento i ragazzi hanno chiesto aiuto, 20 soccorritori impegnati per portarli in salvo. Buonasera, buonasera a tutti, in apertura la sanità sono passati otto mesi l'attivazione del servizio di edisoccorso H24 per la base di Caiolo. Ecco i numeri di questo primo periodo, la introduzione del volo notturno. Dal 10 luglio la base elisoccorso di Caiolo è la seconda in Lombardia ad avere l'operatività di un tecnico di soccorso alpino nell'equipaggio. A otto mesi dall'avvio dell'attività H24 dell'elicottero di Areu, l'attività notturna si è strutturata fino a disporre oggi di attività con i visori notturni, possibilità di atterrare fuori campo e operazioni speciali per le quali da pochi giorni è a bordo anche un tecnico di soccorso alpino. La configurazione notturna è composta quindi da due piloti, il medico, l'infermiere, il tecnico di volo e il tecnico di soccorso alpino. Dal 4 novembre 2021 al 14 luglio scorso le richieste di attivazione dell'elisoccorso sono state 905, 667 per interventi primari e 238 per trasferimenti secondari. Dai 667 primari, 553 in orario diurno e 114 in notturno. Circa il 17% dell'attività si è svolta di notte. Sui numeri complessivi dei notturni, metà dell'attività è stata svolta in provincia e l'altra metà fuori provincia. In queste ore passaggio di consegne alla base Areu di Caiolo tra il direttore uscente Gianluca Marconi e il nuovo responsabile Mario Teruzzi. A otto mesi dall'attivazione dell'H24 l'elisoccorso della base di Caiolo è cresciuto in competenze e operatività. Tanto che ad oggi, mentre si sta completando la nuova sede che meglio risponde alle necessità dell'equip, le potenzialità dell'attività notturna sono pari a quelle della diurna. È un percorso che parte da un'attività notturna a partita del 4 novembre con alcune limitazioni. In questo tempo abbiamo poi sviluppato diverse competenze. sia per quanto riguarda il personale sanitario sia per quanto riguarda i piloti per cui in questo momento siamo a regime. Da pochi giorni siamo entrati a regime quindi possiamo fondamentalmente dire che abbiamo un'operatività notturna pressoché sovrapponibile a quella diurna. Quindi anche con manovre speciali, operazioni speciali, verricello, overing e ci permette di intervenire all'interno anche di realtà particolari, ostili, impervi. Un'operatività che adesso è completata anche dalla presenza di un tecnico di soccorso alpino che entrerà a far parte stabilmente dell'equip dell'elisoccorso. Assolutamente sì. Avendo introdotto le operazioni speciali a questo punto è necessario avere anche la presenza del personale del soccorso alpino che appunto coprirà anche l'attività di tipo notturno. E quindi è un elemento, un fattore in più che aumenta anche il nostro grado di performance e di operatività. Per quanto riguarda i numeri solo in questo periodo abbiamo fatto oltre 230 missioni notturne tra primari e secondari su un complessivo di 905 missioni. Quindi è un percentuale importante e confidiamo comunque di incrementarla proprio perché abbiamo raggiunto comunque un'operatività importante. Dottor Marconi, lei lascia il volo di emergenza in Valtellina e Val Chiavenna dopo tanti anni e dopo averlo fatto crescere? Sicuramente adesso mi aspetto una nuova sfida. È chiaro che il mio cuore rimane anche qua. Lascio appunto le consegne al collega che è assolutamente valido ma io cambio posto ma non vado via perché rimanendo comunque come coordinamento di tutti gli atti avrò comunque un occhio di riguardo sempre per questo territorio che ho imparato ad amare. La possibilità che mi è stata detta di arrivare in questo territorio che è sicuramente molto bello, molto affascinante ma anche molto difficile per orografia del territorio come dicevamo prima ha sicuramente dettato una gran parte della motivazione per poter continuare in questo percorso di miglioramento sia dal punto di vista di gestione del servizio pre-ospedaliero nonché di partecipare alla possibilità di migliorare quello che possiamo dare al cittadino già dal pre-ospedaliero fino all'ospedale. Novembre 21 ho iniziato a frequentare la base e il territorio quindi non solo l'elicottero ma tutto il territorio perché questo non va dimenticato. La base è un grande aspetto di soccorso ma sicuramente fa parte di un sistema integrato. Una grande disponibilità da tutto il personale quindi devo dire che sono stato accolto molto bene. Parliamo ancora di sanità dal 2019 ad oggi drastico calo dei camici bianchi nei quattro ospedali della provincia di Sondrio ecco analisi dei dirigenti medici e sanitari di ASST. In prima linea nei reparti anche durante le fasi più drammatiche della pandemia spesso lontani dai riflettori i dirigenti medici e sanitari di ASST Valtin Altonario hanno rotto gli indugi e hanno convocato una conferenza stampa nella sede di confartigianato Sondrio. I camici bianchi nei quattro ospedali attivi in provincia sono sempre di meno tra 2019 e 2022 dimezzati cardiologi passati da 16 a 8 gli urologi erano 10 ora sono 5 gli anestesisti e i reanimatori sono scesi da 34 a 24 i ginecologi da 24 a 15 i radiologi da 21 a 13 gli ortopedici da 14 a 10 in pronto soccorso si è passati da 15 a 12 medici due soli neurologi contro i 10 da 2019 in pneumologia due dottori contro gli 8 del pre-pandemia come abbiamo detto durante la conferenza il problema fondamentale adesso la criticità più importante è quella della grave carenza di personale che ha portato a dover assumere personale da cooperative ha portato alla chiusura di alcuni servizi anche se temporanea e tutto questo chiaramente ha un solo significato cioè che quello che c'è attualmente non è sostenibile e quali dunque i passi da compiere nell'immediato? occorre assolutamente un progetto nuovo che tenga conto delle risorse effettivamente presenti e quindi anche una riorganizzazione senza campanilismi senza parlare di chiusure perché in realtà non si parla di chiudere si parla semplicemente di riorganizzare ci sono delle attività che devono essere mantenute il più capillarmente possibile per i cittadini altre che possono essere concentrate io direi in quello che è il capoluogo della provincia piuttosto che concentrarle invece al di fuori o portare i cittadini a dover andare sempre nel milanese, nelle strutture private io manterrei le attività in Valtellina e non mi focalizzerei tanto sul problema Sondrio-Sondalo come invece sta succedendo da troppo tempo come rendere più attrattiva la provincia di Sondrio per i giovani medici? bisogna avere un progetto una progettualità della sanità in Valtellina in secondo luogo come diciamo per attrarre i giovani i giovani hanno bisogno di per lavorare, lavorare su casistiche non possono andare in posti dove le casistiche sono frammentate in più posti la cronaca a nuovo colpo inferto dalla polizia di stato contro lo spaccio di stupefacenti in Valtellina nella mattinata di martedì il personale della squadra mobile della questura di Sondrio dopo accurate indagini ha arrestato a Milano un 44enne marocchino residente nella metropoli Lombarda è stata data esecuzione all'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP di Sondrio il 44enne assieme ad altri connazionali si sarebbe reso responsabile del reato di spaccio di stupefacenti nei boschi vicini all'abitato di Dazio 16 scout del milanese sono stati recuperati ieri sera nei boschi sopra Pesce Gallo travolti da grandi in evento i ragazzi, tutti minorenni, hanno chiesto aiuto al soccorso alpino 20 gli uomini impegnati per portarli in salvo 16 ragazzi, tutti minorenni, sono stati portati in salvo ieri sera dal soccorso alpino della stazione di Morbenio soccorso alpino guardia di finanza e dai vigili del fuoco il gruppo di scout, tutti residenti nel milanese si era avventurato per una cosiddetta missione nei boschi sopra Pesce Gallo con l'intenzione di dirigersi in piccoli gruppi verso i rifugi Trona Soliva, Falca e Salmurano dove avrebbero passato la notte in tenda erano circa le 17.30 con il cielo già scuro sopra la Valgerola quando hanno lasciato i capi scout a Pesce Gallo base di partenza delle missioni per incamminarsi in due gruppi distinti meno di mezz'ora dopo si è scatenato un intenso temporale con grandine raffiche di vento e il precipitoso calo delle temperature arrivati nei pressi di un torrente lungo il sentiero che attraversa la Valtronella i ragazzi di uno dei due gruppi si sono preoccupati e hanno chiesto aiuto più di una ventina i soccorritori chiamati ad intervenire che li hanno localizzati e raggiunti in poco tempo alcuni dei ragazzi avevano qualche problema una ragazza ha una sospetta distorsione altri delle contusioni molti presentavano un inizio di ipotermia riportati dai soccorritori a Pesce Gallo dove erano rimasti nel frattempo i capi scout sono stati assistiti dal personale della Croce Rossa di Morvegno che ha effettuato tutti gli accertamenti il comune di Gerola ha messo a disposizione i locali dell'ex asilo del paese per trascorrere la notte al sicuro e permettere ai giovanissimi di riprendersi non solo dalle conseguenze fisiche ma anche dallo spavento per il rischio corso una squadra del soccorso alpino infine è salita al rifugio salmurano per accertarsi che anche il secondo gruppo composto da altri 18 ragazzi impegnati in un'altra missione fosse giunto a destinazione e fosse tutto a posto l'intervento si è concluso poco prima di mezzanotte il polifunzionale di Faedo ha accolto due iniziative estive della CGL di Sondrio un torneo di bocce a coppie organizzato dallo SPI il sindacato pensionati guidato da Sandro Bertini in campo i ragazzi e le ragazze che frequentano i centri disabili di Sondrio e Somma Sassa lo sport ancora una volta ha unito le generazioni iniziativa inserita nei giochi di liberità la sera il campo di bocce di Faedo ha accolto due grandi tavolate 120 le persone che hanno risposto all'invito della CGL pasta asciutta per tutti servite in un giorno il 25 luglio che ha un significato particolare nel 43 nel Reggiano la famiglia Cervi distribuì piatti di pasta per la destituzione di Mussolini pochi mesi dopo a dicembre i sette fratelli vennero condannati a morte e fucilati Adelmo Cervi figlio di Aldo si è collegato con Faedo con il segretario Guglielmo Zamboni e con tutti i presenti ci spostiamo in Valchiavenna il sito archeologico di Belfort a Piuro ospita sabato e domenica 30 e 31 luglio il primo festival del Luppolo Belfort, questo in nome di iniziativa nasce per valorizzare la filiera brassicola locale una due giorni dedicata alla storia e alla cultura della birra nell'area archeologica di Belfort in comune di Piuro si chiama Belfort, il primo festival del Luppolo promosso dall'amministrazione locale per valorizzare una specialità che a Piuro come nel resto della valle è stata di casa nel XIX secolo e nella prima parte del Novecento e che è tornata da un paio d'anni grazie al lavoro di ASFO+, l'associazione fondiaria che coltiva il Luppolo a Borgo Nuovo insieme alla birra di Piuro prodotta da Dulac i protagonisti di questa due giorni di degustazione che andrà in scena sabato 30 e domenica 31 luglio saranno quattro birrifici lombardi inseriti nella guida delle birre di Slow Food tante birre e buon cibo locale grazie alle associazioni che proporranno un menù di specialità del territorio tra cui i prodotti a marchio Deco come i formaggi della Val di Lei e la torta di Fioretto Birfort ha l'obiettivo di valorizzare la filiera brassicola che da poco più di tre anni sta caratterizzando il lavoro della comunità di Piuro grazie all'associazione fondiaria Ersaf e Fondazione Foianini partner scientifici del progetto si è ripresa la coltivazione del lupolo attraverso due campi sperimentali l'idea di sviluppare la birra di Piuro nasce dalla volontà di recuperare i terreni incolti del comune per dare nuova linfa all'agricoltura di montagna entro il 2022 sarà realizzato anche il primo birrificio agricolo di comunità sostenuto e finanziato da Regione Lombardia la manifestazione si svolgerà nella cornice unica dell'area archeologica Belfort rovina di uno dei palazzi della famiglia Vertemate di Piuro scampato alla frana del 1618 i tour di degustazione di Belfort iniziano sia sabato che domenica alle 11.30 e la sera dalle 17 alle 23 informazioni sulle differenti proposte sono disponibili al sito www.infopiuro.it bene con questo è davvero tutto vi ricordo l'appuntamento sul web con il nostro sito, la web tv la nostra presenza sui principali social vi auguro una buona serata www.infopiuro.it